Oltre all'invio di un ingente numero di cartelle sattoriali, l'Agenzia delle Entrate per la riscossione sta inviando anche degli avvisi di fermo amministrativo per autoveicoli e motocicli. Dall'atto della notifica ci sono 30 giorni per poter pagare e non subire il suddetto fermo che vieterebbe ovviamente la circolazione. C'è la possibilità comunque di ratezzare la somma dovuta e dopo il pagamento della prima rata il fermo non sarà più esecutivo. Grazie.